Ah, ah, siete voi? Ah, sì, stavo leggendo qualcosa Sì, vado a dire che... Bene Vado a dire di cove Ci vuole un pochino Per caso oggi c'è Outlast? Ah, capisco Stavi aspettando che la vocina dicesse Nell'episodio precedente Ehi, stavo parlando Hai sentito? Ha detto coglione Questa sfonda... Oh, che sei il tipo, Gesù, Giuseppe Maric Sai come, ma io ho un dito che fa schifo Amico Dai Ai svaghi migli... Bra, vedi, c'è la Playstation Oh, trovate la porta C'è uno doveva girarsi in tutto sto galletto Allora, qua se c'è qualcuno E' impossibile che ci sia qualcuno Dai, ecco qua io potrei viverci Cosa ti nutro? Oh, la condensa Cerichiamo la batteria Dove deve andare? Il muschio La muffa Il cuore mi porta qua in alto E allora, visto che il cuore Ogni tanto funziona Che sale Liscio, liscio, liscio Oh, amico mio E' tipo liscio, liscio, liscio Chiudi la porta, eh Sì Psicopanico A me è psicopanico Se tu vuole nel manicomio Noi siamo Dove vada amici? Oh Eh, dietro di te, dietro di te sta un po' mano Ok, dove consigliate di andare? Questo no Qua c'era il pazzo furioso che voleva Devo andare qua Sì, devo andare qua Tanto scene di carattere Ok, un clip Clip per gli ascoltatori adulti Gli altri più da più Su, stai nel tuo Stai nel tuo C'è FIFA 15 Stavo sendo il 16 Stai lì God always provide a way Ah, Dio trovo sempre la via Segui il sangue Hai ragione Io trovo sempre la via Segui il sangue Nel senso provvede sempre una via per te Nel senso O magari ti squarta C'è qualcosa qua sotto? Batteria? Sì, batteria Sì Non è mai Tu hai distrutto qualcosa Fa niente Se mi erano 8, 164 miliardi Prima Eh Tipo per te era esaurito No, è un allato Mi sa che era la mattina Dici Mi sa di sì Apriamo No, c'era il sangue Ti decidi Di andare qua Ancora Blocco? Ma perché io sto sceguendo il sangue? Pensa Noi siamo talmente inutili che seguiamo il sangue Cosa c'è scritto? Aspetta Down The Giù dal Book Drive 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 è buffo Eh, sì tipo Ma io vado di qua perché ci deve essere qualcosa No, non c'è inutile Documenti Ci deve essere qualcosa Salve Salve Te l'ho detto Quando tu chiudi i documenti c'è uno lì imparsa di chi fa Sarebbe bello Io mi tuffo Tania Cagnotto e me fa un baffo No, a me mi A me mi Perché è uscita questa cosa? Perché? Chiudi la porta No, devi per far sapere Chiudi la porta Chiudi la cella 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 Ma devi andare da lì Non devi andare da lì Vai in una cella peggiore Devo andare da lì Forse è meglio se chiudi questa alle spalle Questa Prima che quello là indietro si giri Ci sono degli armaghetti Io ti ricordo che c'è uno qui Sì ma questo qua non credo E' molto chiuso in gabbia Eh A meno che non sia Spider-Man Ma perché mi sono chiuso qua dentro? Spider-Man, Spider-Man c'è un buco nel soffitto? C'è un buco nel soffitto? Spider-Man No perché Per me non è qua È lì Scusa ma ci sei appena andato Che vero era chiuso E non c'è niente Non c'è niente Eh no E di passare da lui magari No non ci penso nemmeno Andiamo a fare amicizia Scusa le tute per sicuramente Eh ma lì per scusa dove siamo? Sì No Sì Quello è uscito Ma come? È uscito Lui così prende le chiavi E magari si passa O magari deve darti qui Oddio L'exito per Non voglio sapere cosa mi sta facendo Eh no Eh no 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 E io penso che devo andare di là Sì ma scappolo Corro Al diavolo Non fermare Non fermare Non fermare Va tutto bene Non è vero Non mi importa dove chi è Occhio Io andrei a chiudermi dentro la cella Chi sa che mi ha visto Come faceva essere qua Wow È straveloce tipo Chiudi la porta Chiudi la porta Non posso chiudere Sono alle spalle Chiudi questa Chiudi quella Chiudi la porta Ci sono degli armadiati sicuramente là Qui Sì ma mi sa che c'era dietro Aspetta eh No No perché non devi mai voltarti Io lo faccio sempre Non l'ha visto ancora No Lui l'ha visto Sì No Ma per tre seconda E vuoi scaricare la batteria Vai vai corri corri E ricarica la batteria mentre corri Eh bene stiamo continuando a fare zig 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 Ho un'idea Dimmi Eh Quando sei là Torna indietro Chiudi quella porta Guarda ogni due secondi E fai Quella c'è la porta C'è la No questa Questa Chiudila È trasparente È trasparente Ma è handicappato Sì è handicappato Mi sa che non l'ha visto Magari quelli fa la spia No Stiamo giocando a nascondino Va bene Mettimo Devo fare tana Devo fare tana È lì Guarda È lì Quando è che posso uscire Eh mi sa Già adesso Perché non c'è nessuno Mai mi nascondi Tana libera a tutti La vita Il problema È le scimmie orlatrici Le scimmie orlatrici Sono tipiche Del manicomio E il problema È che dove andare C'erano dei Armadietti Dove Ma questo qui Ma se ti abbassavi Non ti facevi sgamare No ma non è questo Lui sta fermo di bordo Lui sta guardando La sua opera di arte moderna Garbine ha fatto A noi non interessa Mi sta guardando Stai zitto Guarda chi è qui Mi sa Tranquillo ci nutriamo Di condensare Posso uscire? Sì ti ha armadietti E ti ha armadietti Ho bruciato Ecco Via Ecco adesso nasconditi Adesso nasconditi Seguo la vostra teoria La mia La mia è più scappa Comunque Prendo uno Senti Via Via Vuoi rumori lì? Te lo rimano tutti Penso che io debba uscire No 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 Devo uscire Penso che io debba uscire Ecco Strati Apri quello di destra Bro No Anzi non fare niente Sai che ti dico No Ma come è andata dell'altra Ma perché uno dovrebbe aprire Degli armadietti a caso Cioè Cosa faccio? Vuole vedere un armadietto? Vattene Il topino è nostro Ma perché non ti fai Tipo una bella pantina? Posso uscire? No Stiamo qua a vita allora Sì Ragazzi questo gioco si conclude No non farmi del male Sono un bravo bambino Sorriso Eccolo Sorriso Ora poi si No Aspetta aspetta Ma mi hai detto che Secondo me le spugnano però Allora Quindi gli spugnano Ha lasciato la porta aperta Che brava Le sta spugnando È diversa la cosa Non l'ha lasciata aperta Cos'è? Toc toc Chi è? Secondo il lupo Mangia frutta Che frutta vuoi? Una banana Quella che non Quella che non ha il mio gusto Possibilmente Lì dentro Quella lì è aperta È lì dentro Che devi andare Ciao No Come ciao? Dovevi andare? No è È qua È qua È vero C'è qualcosa qui Vai 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 Scegui sangue Scegui sangue Scegui sangue Frecce di sangue Scegui sangue Scegui sangue Cos'è sta cosa qua? Poi ti decontallano Eh perché puzza Ok Salvataggio Ma che bello Ma che bello Chiude Ma saltate Sai com'è La gioia Ti mostro Eh Face Gioia Di sé Gli abbiamo dato No I fratelli I fratelli I fratelli Piseri Ok Questa tagliala Paragons Of fustos Joe Like Inscritto Non ti metti sulle falche La faccia di Ale Infrarose Non stare per me Eh Sì ma stai fermo Se no non riesco a mettere la faccia Devo fare Vuole la lingua e il fegato Tu I miei Vuoi i tuoi o i miei I tuoi I miei Io voglio i miei Eccolo Assassin's Creed E il suo uditore Da Da Montecitorio Ma cos'è E adesso a caso strano Cade Cade No Dove sono Ma sono spariti Sono andati Sono veloce Basta dormire Spazio Piscali Piscali Piselli Piscali al vento E qua è rotta Perfetto Sì Non dobbiamo andare di là Non dobbiamo seguire Qua serve la chiave Le docce Andiamo a farci una doccia E la chiave magnetica Dov'è Nelle docce No Ha attaccato uno di quei tuoi peni Come è talmente buio No Mi ha staccato la testa Questo qua è un letto Essere o non essere? Questo è un letto Questo è un letto Corri Solo perché racconto qualcosa La mia teoria Aiuto 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 Le capretti Dicono scappa Gaccia qua Ah li Poveri Non chiuderti mai dentro La casa Allora Detocca lui Non chiuderti No No Esci passando per le docce Docce non si scrive Ha scritto No 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 Allora sono io Esci 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 Perché Perché c'è uno dietro E' uno davanti C'è quello davanti Dopo se tu scappi indietro Sai che l'altro dietro E' uno davanti E' che ho schiacciato Il tasto per la corsa Il tasto per la corsa Ha fatto così il credito Cioè vedrai che c'è l'uno col pendolo di fuori Che ti vuole Vai pendolo Ecco tocca a me Eh no Era la morte Eh si ti ha trapassato con qualcosa di potente Ecco Niente Dio Attiva la telecamera Cheese Dove sono? Di qua dove la teniamo appena stuta Ok Dove è la prima finestra aperta Che non è questa Che non è questa Che non è questa Che non è questa Santa Non schiacciare la corsa che sale E' tipo non la prima Non la seconda Ma tipo l'ottavo o la nonna Che trovi aperta Che brutta roba Ok Tipo non questa no Io vorrei ricordare che a ogni infarto che prendo rido Non mi ricordo Cioè non so se magari No è ladrona No è ladrona No è ladrona Pensanti è Ma ti dico una cosa Non andare di là Ma non si vuole Non corre Non corre Non corre perché c'è dietro Se corre Fai rumore Quindi No 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 Non c'è niente Apri la porta Chiudi la porta Chiudi la porta Chiudi la porta Sembra Metti la cera Togli la cera Oddio ho sentito Tu non hai sentito niente Vai vai Bu Bu Devo seguire il sangue Non ce n'è C'è per te Ah C'è una bella strisciata Comodino Ti raffida Chiudi la Chiudi la Chiudi la Almeno senti se la sfondano Non stia spoilerando Sono cose che succedono Nel immediato Salvataggio 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 Comprendete perché Dovete farlo Vero No no Non vorrai Riceppiamo una chiamata D'emergenza D'pressi Del parco evento Degli studios WBG Sono stati similati Dei wizard fuori controllo Questo è il gruppo Il grande Mai visto Bene gente Andate a fermare Tutti quelli Iniziali Generateci Dell'altro Crimson Ho 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 ho